A distanza di quasi 20 anni dalla prima identificazione in Italia, il virus della West Nile, malattia che si trasmette attraverso una puntura di zanzara, continua a rappresentare una sfida per tutti gli operatori del sistema sanitario coinvolti nelle attività di sorveglianza e controllo. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, in qualità di centro di referenza nazionale per l'accertamento delle malattie esotiche degli animali, ha indetto una giornata di studio proprio sulla West Nile Disease, un incontro tra ricercatori italiani per fare il punto sulla diffusione di questa pericolosa malattia. È una malattia che, come dice il nome, viene dall'Africa, di origini africane, però come tante altre malattie africane purtroppo raggiunge anche il nostro paese. E come si trasmette? Si trasmette principalmente attraverso le zanzare, quindi praticamente siamo a rischio in tutto il paese. Ed infatti è una malattia che circola, un virus che circola in tante aree, in tante regioni. Colpisce gli animali e gli uomini? Colpisce gli animali e gli uomini, purtroppo è una zonosi. È una zonosi che ogni anno dà decine di casi nell'uomo, talvolta con forme neurologiche anche gravi, che possono addirittura portare alla morte. In Italia quali sono le zone più a rischio? Le zone più a rischio alla fin fine sono un po' tutte. Certo, per le persone che ci vedono in televisione, dove ci sono le zanzare c'è il rischio maggiore. Quindi sicuramente dove ci sono ristagni d'acqua sono zone a rischio. Una temperatura elevata è una realtà a rischio, ma anche queste temperature di questi giorni possono far ripartire una generazione di uova, di zanzare, che rimangono nel terreno e che a un certo punto, viste le condizioni ambientali idonee, possono svilupparsi. I cambiamenti climatici possono estendere gli areali delle zanzare stesse. Cioè nel senso che la temperatura, mettendo la temperatura media, abbiamo presenza di zanzare in areali dove fino a qualche anno fa non c'erano. Grazie. 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 Grazie.